Amici 22, dopo l'eliminazione di Samuele Segreto arriva a reazione di Beppe Fiorello, vi annuncio che è andata in onda ieri sera la terza puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. A lasciare la scuola dopo un testa a testa al cardiopalma contro Wax è stato Samuele Segreto, il ballerino della squadra di Lorella Cuccarini e Di Manuolo. Classe 2004, il giovane talento siciliano in questi giorni e ha il suo debutto sul grande schermo con Stranizza da Muri. La pellicola che segna l'esordio di Beppe Fiorello dietro la macchina da presa. Ed è stato proprio noto attore e conduttore a essere fra le prime persone ad aver sentito il ballerino dopo l'eliminazione dal talent. Beppe Fiorello ha prima postato una storia sul suo profilo Instagram. Poco dopo annunciato con un post che presto Samuele Segreto sarà presente insieme a lui e al resto del cast nelle prossime etappe del tour promozionale. Ii dau jos carumare, astrologii al treabă ca urmare Sunt dus cu capul, dus cu capul Zic, jos patescu, jos ponta, sus cu rapul Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul Decă mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta Liric vorbință, ajungă la ea doar nasta cu racheta Să o admire nave spațiale de pe Andromeda Grazie a tutti